Oggi 10 ottobre 2019, inizio YouTube con questo sistema, sono io, Aldo, apro la porta di casa mia e vedo un bel giardino. Mi piacciono le case ringhiera, eccole qua, la mia casa ringhiera e devo dire che abito qua, anche ieri sono andato in Navigli, mi piacciono tantissimo le case ringhiera e guardo oggi il cielo e il cielo è il mio programma, dunque lo dico per chi vuole seguirmi nella giornata. 12 e 31, treno da Porta Garibaldi per Gallaratte, 12 e 31, oggi 10 ottobre 2019, treno da Porta Garibaldi, ho detto esatto l'orario. Poi a Gallaratte scendo e vado il treno che prosegue cambiando la locomotiva, quello che va a Luino, arrivo a Luino, oggi si promette una bella giornata, Luino mi piace come città. Milano la sa memoria, la conosco memoria, poi guardo il cielo di oggi, autunnale sarà una giornata stupenda e vedo anche il mio cortile l'uva, eccetera, le castagne. E devo dire che oggi è programmato, bello, non vado in tv, guai, rovinare una giornata così di settembre, di ottobre diciamo, sembra settembre. Poi c'è l'ottobrata romana, questo periodo, cioè vengono 3 o 4 giorni caldi, temperature di mieti circa di 21 o 22 gradi. Ottobrata romana si chiama così, anche in tempo passato succedeva ogni tanto questo caso che la temperatura era un pre-invernale, cioè un attunno caldo, è successo anche secoli fa. E devo dire che i romani festeggiavano questi 3 o 4 giorni dell'ultima temperatura, si può dire quasi estiva. Allora, oggi il programma è questo qua, è facilissimo, vado Luino, poi Luino c'è un bus che va a Valdomino, Montegrino, è un paese collinare dove c'è un borgo, bosco, abbandonato. E lì sono in una valle piccola, denominata appunto quel nome che ho detto, è il paese, è la località in Montegrino, dove si arriva a comodamento col bus, sì, comodamento proprio col bus. La mia vita ogni giorno è in bilico, è un filo che percorre il mio senso continuativo del mio essere attraverso le passeggiate. Spero che qualcuno oggi mi segua e devo dire anche di più che arrivati in quel paese abbandonato bosco, poi si riscende, si va in un grande paese chiamato Grandola, a piedi. Arrivato a Grandola c'è il bus che va a Cittiglio, da Cittiglio c'è il treno che va all'Aveno, all'Aveno vado a vedere la casa abbandonata. Devo dire che anche oggi è un bel programma, una bella situazione che mi offre la giornata, l'opportunità di viaggiare Aldo.